La salute è il più fondamentale dei diritti fondamentali. Perché in questi ultimi anni? Non perché il problema della salute non ci fosse, ma perché non era entrato nella consapevolezza istituzionale con la forza che ci si sarebbe dovuti aspettare. Quando fu scritto l'articolo 32 della Costituzione che dice, io ne ricordo solo i passaggi fondamentali, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. L'ultima parte la leggerò più avanti perché merita un'attenzione particolare. Quando fu scritto questo articolo, sto parlando della seconda metà degli anni 40, la Costituzione è 48, è stato scritto tra 46 e 47. Alcuni dissero, ma perché la Costituzione si occupa della salute? La salute è un affare di medici e invece la salute è un affare che ci riguarda e ci riguarda non solo come persone che si possono trovare nella situazione di malattia, ma ci riguarda in una maniera molto più impegnativa perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute in modo molto nuovo, nuovo ormai da tanti anni, cioè uno stato di pieno benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. Cerchiamo di capire che cosa si è voluto dire. La malattia è qualcosa che certamente presenta la salute nella sua manifestazione estrema, patologica e infatti noi parliamo di patologie quando ci riferiamo alla situazione in cui si può trovare una persona. Ma la salute è qualcosa che noi dobbiamo considerare in ogni momento della vita perché è il benessere fisico, psichico e sociale. Non sarà la felicità di cui parlavano le Costituzioni degli Stati americani, ma è un benessere pieno della vita. La salute è un modo giuridico per descrivere la vita. È importante tenerlo presente, tenerlo presente perché dovremmo essere consapevoli dell'importanza delle istituzioni pubbliche che garantiscono la salute. Voglio raccontare un episodio personale. Alcuni anni fa eravamo mia moglie ed io in viaggio negli Stati Uniti in macchina, una sera ci siamo fermati in questi motel che si trovano dappertutto, ci siamo messi a guardare la televisione e abbiamo visto delle immagini sullo schermo. Ho detto ma questo è un luogo che noi conosciamo ed era l'ospedale San Camillo di Roma. E qual era il commento di chi accompagnava con le parole questo programma? Questo è un ospedale dove voi potete entrare ed essere curati senza dover esibire una carta di credito o un contratto di assicurazione. Ecco, un grande paese straordinario dove la democrazia ha fondamenti, radici. Io penso che il congresso americano sia oggi l'unico vero grande Parlamento del mondo. rivelava nel racconto quotidiano un problema enorme, che è quello che è stato affrontato poi con grande coraggio da Obama, riuscendo dopo molti anni e dopo molte resistenze ad ampliare il servizio sanitario nazionale, diremmo noi, in un paese dove c'erano 40 milioni di cittadini privi di ogni copertura per la loro salute. E dunque è la vita, la tutela della vita e lo ha detto molto bene la Corte Costituzionale facendo un discorso che merita di essere ricordato. Ed è una sentenza, io adesso ricordo gli estremi in modo molto semplice, che parla del diritto all'autodeterminazione, dicendo che questo è un diritto che si ricava dal consenso, dal principio del consenso e dal diritto alla salute. Allora cerco di chiarire che cosa si è voluto dire. Il principio del consenso. Quando nel 1946 il mondo scientifico scopre attonito quello che era avvenuto in Germania con la sperimentazione scientifica sugli esseri umani, che era stato orribile, viene scritto subito dalla comunità degli scienziati quello che va sotto il nome di codice di Norimberga. E cioè le parole iniziali sono queste. Il consenso della persona interessata è essenziale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nessuno può mettere le mani sul corpo di una persona senza che la persona lo abbia preventivamente autorizzato. Ho usato queste espressioni mettere le mani sul corpo della persona perché dietro c'è una storia lunghissima perché se noi leggiamo la magna carta del Regno Unito 1215 il re promette non a tutti i cittadini ma ai nobili, agli abbati e ai rescovi proprio che li rispetterà con queste parole. Non metteremo le mani su di te, cioè non ti arresteremo e non ti tortureremo come avveniva e come purtroppo poi è continuato a succedere. Ma queste parole nel discorso della Corte Costituzionale assumono un valore particolare perché oggi non si può imporre a nessuno l'obbligo di curarsi, non si può imporre a nessuno la prosecuzione delle cure, il consenso permette a ogni persona di rifiutare le cure e di sottrarsi al potere medico, questo è un punto importantissimo. Secondo, il diritto alla salute. Il diritto alla salute in questo senso è il governo della vita, libero ed ecco perché poi la Corte Costituzionale riassume questi due principi parlando di diritto all'autodeterminazione. Che cosa vuol dire? Che ciascuno di noi nella propria vita, nel modo in cui costruisce la propria identità, la propria personalità, lo fa autodeterminandosi, cioè senza essere oggetto del potere esterno. Questo nel discorso dei diritti è un passaggio fondamentale e io lo voglio chiarire meglio partendo dalle ultime parole dell'articolo 32 della Costituzione, quello dedicato alla salute. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Nessuna Costituzione al mondo ha ancora una formula così forte, perché qui si dice che neppure la legge, neppure il Parlamento, neppure il Parlamento unanime può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Qui c'è dietro la tragedia nazista e sono due signori che si chiamavano Aldo Moro e Paolo Rossi che propongono e difendono questa formula perché nella Costituente, in Assemblea Costituente, non c'era accordo, c'era molto sconcerto perché l'idea del Parlamento è stata, come dire, sempre intesa secondo la frase del più antico Parlamento del mondo, il Parlamento inglese, che si diceva che il Parlamento può fare tutto tranne che cambiare l'uomo in donna. Se volessi fare una battuta un po' di cattivo gusto direi che oggi non è vero neanche questo perché c'è stata una legislazione molto intensa sul transessualismo, il transgender, quindi si è impadronito anche di questo, il potere parlamentare. E dunque quando quei due signori dicono noi dobbiamo affermare che la legge, dunque il Parlamento, si deve autolimitare, che c'è qualcosa di indecidibile da chi? Dalla politica e questo è ciò che riguarda il rispetto della persona umana. C'era lo sconcerto perché entriamo in un'altra idea di Parlamento e la salute scardina questa idea di un potere politico che può prescindere dal rispetto della persona umana. Così come aveva il consenso della persona, aveva scardinato l'idea che il potere medico potesse esercitarsi senza limiti sulla persona, che era oggetto del potere medico. Prima, per carità, il giuramento di Ippocrate che continua a essere pronunciato dai medici dice io agirò sempre nel, adesso non cito, cito a memoria, forse sbaglio qualche parola, ma il concetto è agirò sempre per il bene del paziente, non entrerò in casa sua per procurargli male. Ecco, questo era una grande affermazione, ma considerava il medico un po' proprietario del paziente, era lui che stabiliva se, come e quando curare. Il volere del paziente non c'era, non c'era e gli effetti negativi di tutto questo l'abbiamo misurato. Oggi il paziente è un soggetto morale, prima non lo era, era solo l'oggetto del potere medico e invece attraverso il riconoscimento pieno del diritto alla salute, il paziente è il primo giudice del suo diritto alla salute, che ricordando quella definizione, il diritto del come io decido di vivere. Il punto fondamentale che ci accompagna in molte direzioni è da una parte ci dice che la vita delle persone è sottratta al potere medico e al potere politico, non possono disporre impunemente, non possono stabilire loro che cosa curare, imporre la cura e imporre comportamenti che sono contrari al rispetto della persona. In Italia ne abbiamo discorso, non voglio parlarne in astratto, ma concretamente ci sono stati almeno due casi, quello di Pier Giorgio Guelbi e quello di Eluane Inglaro, che hanno diviso tragicamente l'opinione pubblica. Perché ci sono stati due modi di guardare a queste vicende, che invece la linea tracciata dalla Costituzione avrebbe consentito di risolvere in modo non conflittuale, come poi le istituzioni hanno fatto. Pier Giorgio Guelbi viveva, sopravviveva grazie a una macchina, era giunta a un momento della sua vita in cui riteneva che la sua vita non fosse più degna, ma non perché qualcuno gliel'aveva imposto dall'esterno, tu sei indegno. No, ma perché lui aveva costruito attraverso l'esercizio della libertà quella condizione come non più degna del vivere. Questo è un punto importante perché nessuno può prescindere dal consenso della persona. Nessuno, oggi nella discussione anche di molti studiosi di bioetica, si dice beh ma ci sono alcune categorie, le persone che sono assolutamente in una situazione terminale, che non hanno più la possibilità di pronunciarsi, le persone che sono, come si dice, incapaci di intendere e di volere, le possiamo considerare persone. A questo modo di intendere le persone noi dobbiamo reagire nel modo più assoluto, non si può in nessun caso prescindere dalla volontà e dal consenso della persona, altrimenti noi ripiombiamo nel modo peggiore di esercitare il potere politico e medico. E allora Pier Giorgio Guelbi realizzava quello che è riconosciuto ormai anche dalla legge italiana sul servizio sanitario nazionale, cioè il diritto di rifiutare le cure. Questo è un diritto fondamentale della persona. Sappiamo che ci sono stati casi ancora più drammatici di donne che hanno rifiutato l'amputazione di una gamma in cancrena, sapendo che questo avrebbe determinato la loro morte a scadenza non lontana, perché ritenevano che non era più una vita degna per loro vivere in una condizione di menomazione. Quindi quel caso che ha diviso l'opinione pubblica è stato risolto nella maniera più corretta e conforme a quelli che sono i principi di base, non solo del nostro sistema costituzionale. Più drammatica, certo, la vicenda di Alan Englaro perché lì non c'era una sua dichiarazione esplicita e la sua volontà è stata ricostruita attraverso testimonianze. È qualcosa che noi dobbiamo rifiutare, questo è un tema di cui si è molto discusso, ma io dico che noi dobbiamo sempre essere rispettosi della vita delle persone. E la vita non è solo la vita biologica, la vita è la biografia di una persona, la vita è come ciascuno di noi si è costruito nei confronti del mondo. E infatti la legge inglese e la legge tedesca dicono esplicitamente che di fronte al fine vita si deve tener conto non solo di ciò che la persona ha esplicitamente dichiarato, ma i suoi stili di vita, agli orientamenti che aveva assunto. E dunque anche in una situazione come quella di Alan Englaro la ricostruzione della sua volontà doveva essere ritenuta legittima, lo ha fatto la Cassazione e questa è stata una decisione che è stata valutata anche con un dissenso perfino estremo. Ma il punto da considerare è che il governo della vita, che è ciò che ci viene considerando la salute della persona, noi lo dobbiamo vedere nella dimensione dell'autodeterminazione. Naturalmente questo non vuol dire affatto che lo Stato si debba disinteressare della vita delle persone. Voglio fare un esempio molto chiaro e molto concreto. Si continua nella discussione che non è ancora finita, perché noi non abbiamo una legge in materia, anche se non si può dire che ci sia un vuoto legislativo, perché vi ho ricordato delle norme che ci danno già le indicazioni che sono quelle che sono state seguite dai giudici in molte situazioni. E quindi non deve stabilire, per esempio, perché questo lo deve fare la scienza, se la nutrizione o l'idratazione forzata sia una terapia oppure no, perché sono terapie come tali che possono essere rifiutate dalla persona. Non si deve occupare di questo, si deve occupare di che cosa? C'è un esempio che ci viene dalla Francia, ma non è l'unico, e cioè uno Stato che dice in una famiglia c'è una persona nella situazione terminale o in una situazione di straordinaria invalidità che richiede cura, attenzione, e allora se qualcuno dei familiari decide di prendersi cura di questa persona può avere diritto a una indennità. Perché? Perché altrimenti le persone ambienti possono tenere il morente in casa in condizioni che sono non soltanto di cura affettiva, ma anche si dice che se il malato, anche gravissimo, anche in condizioni estreme, rimane nel suo ambiente, questa è una forma di terapia, lo aiuta. E invece le persone meno ambienti sono costrette o ad abbandonare la persona o a cercare forme di ospitalizzazione, e gli ospizi per le persone in queste condizioni in Italia non ci parlano di una situazione accettabile, perché da Roma in su ce ne sono poco più di un centinaio, e purtroppo le condizioni economiche dei servizi hanno imposto di chiuderle anche in questi anni, da Roma in giù ce ne sono pochissime. E dunque lo Stato non deve abbandonare le persone, deve creare le condizioni perché ciascuno possa vivere in una condizione che ritiene essere degna. Io ricordo benissimo di una donna, mi pare abruzzese, che disse non ho più la possibilità di fare la dialisi, non ho denaro, a questo punto l'unico modo è morire il prima possibile perché altrimenti la mia vita non sarebbe più accettabile, non sarebbe più dignitosa. Ecco, sono questi i casi in cui lo Stato deve intervenire, non deve intervenire nel caso in cui invece vuole imporre lui lo stile di vita e le decisioni sul continuare a vivere oppure no. E io ho pronunciato prima la parola coscienza, che è una parola molto impegnativa, perché quando si discute di queste cose e della vita delle persone c'è un modo che io trovo sbagliato di impostare la questione in politica, io ho fatto il parlamentare per tanti anni, forse troppi e ho sempre considerato offensiva la formula, lasciamo ai parlamentari la libertà di coscienza. Ma come? La libertà di coscienza il parlamentare ce l'ha solo se qualcuno la autorizza, oppure la libertà di coscienza la deve salvaguardare con la sua integrità in ogni momento. E perché ricordo tutto questo? Non per fare una facile polemica, ma quando il Parlamento decide sulla vita delle persone, la coscienza di cui si parla non è la coscienza del parlamentare, e la coscienza delle persone a cui la norma viene rivolta, deve imporre uno stile di vita, devo essere lasciato libero. Il parlamentare sia libero di pensare quello che vuole, ma deve pensare nella logica che si sta occupando della libertà di tutti i cittadini, di milioni delle persone. Non può sequestrare la vita dei cittadini attraverso il suo particolare punto di vista, che è rispettabile ideologicamente, politicamente, religiosamente, ma non ci deve mai essere un'imposizione della mia convinzione personale alla convinzione di ciascuno. La salute diventa un modo per capire meglio la vita delle persone, i compiti delle istituzioni, la limitazione dei poteri, dei poteri che si incaricano poi di intervenire nella vita delle persone, ho citato il potere medico e il potere politico, e dunque non credo di esagerare dicendo che la salute come diritto diventa uno dei caratteri della democrazia di un paese, perché vuol dire che si vive in una repubblica che rispetta i diritti delle persone e si incarica di intervenire laddove questi diritti hanno bisogno di sostegno per essere realizzati. Grazie a tutti.